Un agente immobiliare di 45 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri di Vibo Marina per atti persecutori e lesioni personali a seguito di un violento pestaggio ai danni di un cinquantenne. Le indagini sono partite proprio da queste immagini che risalgono al marzo scorso. Il violento pestaggio è avvenuto vicino al porto di Vibo Marina. L'aggressore scaraventa a terra la vittima colpendola a calci e con uno sfollagente. All'episodio assistono alcuni passanti tra i quali una donna incinta che, secondo quanto riferito dagli investigatori, in preda al panico e alla paura finirà per compromettere inevitabilmente la gravidanza gemellare. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di ricostruire una serie di episodi persecutori attuati dal 45enne scatenati da una banale controversia economica riconducibile alla compravendita di un immobile intercorsa tra l'aggressore e un parente della vittima. Grazie a tutti.